e possiamo finalmente aprire quella porta ed eccoci qua vai ciao amici come state spero tutto bene oggi ritorniamo nella serie di Yvonan ritorniamo dopo tanto tempo dalla nostra cara suoretta ma oggi siamo qua perché finalmente apriremo la porta gialla e scopriremo i segreti nascosti prima di partire ci vediamo sotto tantissimi like iscrivete al canale con la campanella attiva ma adesso direi di partire cominciamo e direi di toccare play allora in questa prima parte del video giochiamo con il gioco ufficiale quello fatto dai Keplerians perché poi c'è ancora la versione alternativa fatto da un fan dove possiamo aprire finalmente la porta gialla in realtà se noi ci pensiamo la porta gialla si può già aprire all'interno di Volnandebroke e Musk io ho già fatto il video al riguardo lì dentro infatti avevo trovato tanti documenti segreti ecco quella stanza è stata ricreata per telefono da un certo Joseph Animation un canale youtube che fa tante animazioni di Volnande dei giochi Keplerians ecco ha creato un fan made di Volnande dove possiamo proprio entrare lì dentro allora per prima cosa vediamo appunto la porta gialla che si trova lì sopra guardatela qui è proprio lì in quel punto comunque i Keplerians hanno detto che comunque in futuro faranno un aggiornamento dove finalmente potremo entrare lì dentro però dobbiamo aspettare questo aggiornamento fino a quando non esce allora per prima cosa abbiamo bisogno della maschera che si trova di qua su prendi qua che dobbiamo ricaricarla perfetto quindi apriamo qua il coperchio e scendiamo subito sotto sì perché senza maschera non possiamo raggiungere quella parte è proprio necessaria per noi quindi scendiamo di sotto perfetto velocemente e la ricarichiamo per bene mamma mia da quanto tempo che non giocavo di Volnande proprio c'ho la nostalgia mi sento proprio nostalgico in questo momento quando gioco di Volnande mi sembrava di tornare proprio indietro nel tempo quando la serie di Volnande era la serie principale di questo canale era bellissimo mi divertivo un sacco devo essere sincero mi manca tantissimo quel periodo mi piacerebbe tornare tipo indietro nel passato per rifare queste serie ma fatte bene fatte meglio con l'esperienza che ho ora ok apriamo quella porta apriamo quest'altra porta ma guardatela qui la sua retta ma che bello rivederti cara sister maddalina su te sta andando perfetto vai pure di là che tanto vado di sopra eh sì perché devo attivare la corrente senza corrente elettrica non posso fare niente quindi muoviamoci da questo lato cerchiamo subito il cavetto elettrico che dovrebbe trovarsi dentro uno di questi cassetti se ce la faccio ah ah boh a posto ce l'abbiamo fatta comunque a proposito dei giochi Keplerians tenetevi pronti perché finalmente sta per arrivare anche la nuova serie di Keplerians e fra pochi giorni verrà svelato il nuovo Villain non vedo l'ora di vederlo qua insieme a voi ok soreta siete qua non è di qua meno male apri qua l'interruttore nel frattempo ce ne andiamo di qua saltiamo qua dentro e adesso dobbiamo cercare di prendere bene la mira perché dobbiamo salire di sopra perfetto ce l'abbiamo fatta infatti qua c'è un bug che ci permette di salire qui sopra ma tra l'altro da qua guardate cosa possiamo vedere tutta quanta la zona che è stata aggiunta tipo con gli ultimi aggiornamenti la zona dove c'è il coccodrillo le fognature anche qua la parte di Nasrat non so come chiamarlo tipo il tempio di Nasrat vabbè tutta questa parte qua ecco volendo possiamo raggiungerla tranquillamente grazie alla maschera ma non è questo il caso non è questo il momento perché quello che dobbiamo fare in realtà è quello di andare qua di lato se ce la faccio a prendere bene la mira ok adesso andiamo avanti e abbiamo raggiunto finalmente la stanza gialla la porta gialla perché tenetevi pronti fra poco finalmente potremo aprirla come vi ho già detto prima in realtà questa porta si può già aprire su Yvonne and Broken Mask ho già fatto il video al riguardo dove siamo entrati lì dentro e abbiamo scoperto quello che c'è realmente ecco Joseph Animation ha proprio ricreato quella stanza di Yvonne and Broken Mask ma per telefono quindi possiamo già entrarci per telefono boh allora io direi di fare una cosa direi di entrarci direi di entrare direttamente lì dentro dal telefono senza stare troppo qui a chiacchierare e vediamo appunto come è fatta questa riproduzione telefonica ok ed eccoci qua siamo nella versione per telefono di Von Nann e siamo sempre qua dentro siamo tipo nella stanza quello dove si comincia il gioco però non possiamo aprire questa porta guardate è chiusa infatti questa qui è tipo una sorta di mod e non ce neanche esiste il Madeline quindi la suora qui non la incontriamo proprio non si vede non sbucca da nessuna parte però ecco mi sarebbe piaciuto vedere qualche riferimento della stanza gialla anche su Escrime 8 perché di per sé noi ci entriamo all'interno di questa stanza cioè quando giochiamo come Rod bambino all'interno di Escrime 8 nella parte dei ricordi noi entriamo qua dentro e mi sarebbe piaciuto vedere qualche riferimento alla porta gialla e invece niente non l'hanno messa niente porta gialla ok allora dobbiamo salir di sopra apriamo questo coperchio saliamo velocemente ed eccoci qua con la porta gialla ah è chiusa abbiamo bisogno di una chiave allora su Evil Nando Broker Mask la chiave si trovava nel pollaio sopra uno dei cosi del pollaio da raggiungere con la maschera quindi vediamo un po' qua dove si trova forse qua sotto si può scendere ah sì volendo possiamo scendere quindi apriamo quel coperchio vediamo qui nell'armadetto non c'è niente qui da queste parti posso aprire qua no posso aprire qui sotto neanche ah però è curioso il fatto che all'interno di questo gioco abbiamo messo la colonna sonora di Evil Nando Broker Mask che secondo me ci sta bene qui dentro la chiave dove sta la chiave ah ecco l'abbiamo trovata e qui la chiave è gialla ce l'abbiamo così possiamo salir di sopra e possiamo finalmente aprire quella porta ed eccoci qua vai e finalmente stiamo per entrare dentro la porta gialla della suora cattiva vediamo cos'è nascosto dentro vai ed eccoci qua dentro allora qui cosa c'è ah qui ci sono le pentole esplosive che non le posso raccogliere no vabbè guardate guardate qui cosa c'è ci sono tante impronte blu che sono quelle di William e poi una foto Elisa mi manchi così tanto Elisa sarebbe la figlia di Sister Madeline tra l'altro sempre l'anima di Elisa si trova dentro il corpo di Rod che abbiamo scoperto che finavano fatto ma poverene finalmente quando Sister Madeline e Rod si incontrano niente fanno una brutta fine muoiono tutte e due vabbè è andato in questo modo poi qui sopra ci sono delle note ah vabbè adesso non ci mettiamo a leggere tutte quante le note perché in realtà ho già fatto un video dedicato ai tempi con Yvonan e Brokemask perché le note sono le stesse quindi quelle che trovate in quel video sono le stesse che trovate qua anzi nel video che vi avevo portato qualche tempo fa le note erano pure in italiano quindi sono in inglese quindi boh niente ho trovato questa statua di Yvonan posso romperla? no non si rompe ma cos'è? la statua della Suoretta ma proviamo ad esplorare sempre questa mappa perché in realtà non è finita qui noi possiamo sempre entrare qua all'interno della botola della trapdoor vai entriamo qua dentro allora posso aprire di qua no non posso farlo però posso proseguire quindi qua ci ritroviamo all'interno di una stanza di un'aula eccolo qua il logo di Joseph Animation che sarebbe il creatore di questa versione di Yvonan poi qui cosa c'è? ah alcuni youtuber che hanno aiutato con lo sviluppo di questo gioco e vabbè ovviamente gli ho messo l'easter egg e ci sta e qui cosa c'è tra l'altro? posso vedere qualche altro segreto? no non posso farlo va bene dai io dirò di fare una cosa dirò che magari in un momento posso vedere quel video fatemi sapere in questo video cosa ne pensate? spero che questo video vi è piaciuto se vi è piaciuto per la condizione spoliciate condividete iscrivetevi al canale con la campanella attiva al prossimo video e come sempre vi auguro buona giornata buone serate buonanotte ciao a tutti e buon parino a tutti buonanotte buonanotte buonanotte